Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video di Paper Please, un gioco davvero molto bellino, dove siamo dei, oddio c'è il giorno da qui, continuare, o inizio nella parte, no, siamo da qui, dove praticamente siamo dei controllori della dogana, guardate, allerta di Repubbio, circolato per omicidio, vince le strade, repubbio, politica che davvero vince le strade, vince, bisanzata, forse uccisa in un raptus di gelosia, va bene, andiamo al lavoro. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo controllare le persone che arrivano all'ufficio in migrazione, secondo le regole che ci dicono loro. Allora, Ministero dell'Accoglienza, bollettino ufficiale, l'ispettore è oratorizzato ad arrestare individui sospetti, interrogare in merito alle circostanze per consentire l'arresto. Gloria ad Astorzka. Regolamento, banco, adesso che sono le istruzioni, va bene. Adesso, apriamo anche la serranda e arriva il primo che si vuole immigrare ad Astorzka. Ciao. Documenti, prego. Allora, questo qua, è dell'antegria, vuole lavorare, durata di soggiorno rimane metà anno, quindi qua sei mesi, vuole lavorare. Vediamo se il permesso è scaduto. Eh, non so se questo qui va bene. No, va bene. Maschio, Outer Growth. Azz, guardate, qua c'è la prima fregatura, il nome non corrisponde. Allora, fermi. Il nome non corrisponde. Che cazzo sta diavolo, le tocco. Ok, l'altra cosa che dobbiamo vedere è se la città in cui è stato emesso il documento equivale, lo vediamo, norma base del documento, no. Non è reso mappa, mappa della regione. Regione, Antegria, è stato emesso, città, Outer Growth. Vabbè, questo qua di regola può entrare. Sembra tutto a posto, ridiamo i documenti. Ed entra da Astorzka. Sperando che non abbia sbagliato nulla. Ecco, permesso d'entrata. Numero non conforme. Numero. Ma che cazzo? Scusami, eh. Documenti, permesso d'entrata. Ma cosa c'è di strano nel numero? Il documento deve riportare un bollo. Vabbè, continuiamo questo. Ah, questa qui è di impor... Eh, però non ho sentito quello che ha detto, affan cacchio. Non ho letto. Sara, Argo, del... Donna, femmina, scadenza. Non è scaduto. Eh, non è scaduto. Avente passaporto, numero. Ok. Il passaporto... Ah, questo qua. Vabbè, comunque questa qui sembra tutta a posto. Controlliamo la città perché non voglio avere un'altra ammunizione. Allora, mappa della regione. Dov'è che è? Di impor. Tutskerneneu. Bolli diplomatici, questo e questo. E qua il bollo diplomatico non sta. Lo sbaglio. Eh no. Beh, sinceramente non lo so. Non ho ancora ben capito come si gioca. Comunque la prova, che cazzo ne si. Adesso sicuramente questa qua non può entrare e mi arriva l'ammunizione e mi licenziano. E la mia famiglia morirà di fame e di freddo. Lui invece viaggia, transito verso un altro paese, durata di soggiorno, rimango un paio di giorni. Ok, quindi transito due giorni, non è scaduto, il documento qui è uguale, vince le strade, maschio. Ok, se avrebbe tutto a posto, controlliamo soltanto se a Republia c'è la città del Lenz Runeo. Quindi norma base, no, mappa, Republia, Lenz Runeo. Va bene, tu sei a posto, complimenti. Avanti il prossimo. In una volta che sono sicuro che qualcuno sia a posto, mi arriva l'ammunizione. Allora, questo scopo del viaggio, visita, durata di soggiorno, vengo un paio di mesi, ok. Documento, scaduto, numero che è uguale, città, paradinza, gabriela, rubira, è giusto. Controlliamo la città. Quindi, mappa della regione, Antegria, Paradizna. E non esiste, guardate, questa qua ci sta cercando di trollare. Incongruenza, interroga. Città che ha messo è diversa, non capisco. Eh, vabbè, la possiamo far arrestare. Io faccio arrestare tutti quelli che sono monelli. Fuori. E' ora che ti faccio. E' ora che ti faccio. E' il prossimo. E' documenti? Boh. Documenti. Scopo del viaggio. Noi mi ha scelto, oggi ho questo schifo di paese. Sono solo di passaggio. Adesso si aggiorno. Meno che posso, due giorni. Perfetto. Quindi questo qua è delle federazioni unite. documento congruente non scaduto qua vedo la data questo non è nemmeno scaduto nome uguale vediamo un po' se nelle federazioni unite c'è un paese che si chiama Great Rapid questo qua è tutto regolare vai cretino lei invece femmina vera gloria in micro eh si ho capito però non mi ha dato un documento quindi devo dire documenti permesso di entrata devo fare così permesso di entrata io lo metto qua mi dice in congruenza io lo chiedo dico che manca le fa cosa è e l'unica cosa che posso fare è rifiutarla perché non è permesso di entrata avanti il prossimo avanti il prossimo documenti visto d'entrata poi bisogna anche vedere la foto transito durante il soggiorno vengo solo due giorni numero uguale il nome è uguale non è una scadenza non è scaduto vediamo soltanto se ad import cioè si ok vabbè tutto a posto avanti avanti ecco se adesso non conforme cazzo di palle non è la femmina fanculo eh maschio si maschio finalmente siamo lì di tirannia migrazione per sempre documento non scaduto scade Vostok per Vostok documento non scaduto città San Marmiro vabbè sembrerebbe tutto a posto vediamo se ad Antegria qua Antegria San Marmiro cioè vabbè tu mi sembri a posto sinceramente tutta bene mia moglie lei è dopo di me mi sa che la moglie non la faremo entrare perché avrà problemi sicuramente documenti prego hai visto mio marito lui è passato si si però ti manca un foglio già andiamo qui documenti permesso d'entrata manca permesso d'entrata a posto eh vabbè tu morirai tu hai condannato a me si 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 vabbè chiudiamo vediamo un po' com'è andata questa giornata lavorativa la tua famiglia ha bisogno di medicine migliore è disponibile barra aspetta riesce per l'inizio ispezione la darmo con male medicina chi a tutti madonna e non c'ho soldi buonanotte non c'ho soldi sempre vengono posti di lavoro i migranti una minaccia vince le strade vissate ancora vince dico vince che adesso cerchiamo di stare più attenti a tutte queste cose allora barra spaziatrice per l'ispezione il ministro del lavoro ha implementato un programma speciale per il controllo della manadopera immigrata i viaggiatori in entrata per il lavoro dovranno esibire un foglio di lavoro in corso di validità ah va bene davanti andiamo un po' allora documenti prego foglio di lavoro nikifor odontoriatria durata di soggiorno rimango due mesi allora odontori nikifor ingram odontoriatria non è scaduto maschio repubbia quindi andiamo su mappa della regione repubbia vera gloria ok i bolli diplomatici questi bordi qua che cazzo ml lo so vedi a documenti permesso di lavoro fuori di lavoro vabbè se andiamo a me sembra tutto a posto io ti ti tornuro sempre con so vabbè non lo so il primo che faccio eh ok il prossimo adesso mi ammuniscono ma è già il primo documenti prego fuori di lavoro ristorazione durata manuetanno ma ecco ristorazione vabbè vabbè ti faccio in congruenza faccio questo con questo vabbè ma la sua pubblicità allora vediamo il documento se è giusto ristorazione scaduto o no scaduto no scaduto no mh obristana obristana mappa della regione obristana mappa della regione obristana mergeros ok questo è il simbolo diplomatico beh senti per me è tutto regolare quanti cazzo i documenti devo dare non lo so comunque che cazzo uomo di nome Dani Ludum promesso a me a mia sorella buon lavoro in Arstotzka io non mi infido temo che lui prenda il mio passaporte e costringe a lavorare in bordello e infilo oggi prego fai qualcosa Dani Ludum vabbè vediamo se c'è sto ad inizio Dani qua chi è questo documenti oscavo cioccia vedere amici tratta di soggiorno resto pochi mesi oh pochi pochi mesi vabbè stigallo visita scaduto no documento giusto vabbè che siamo tutti a posto questo qua dove federazioni unite federazioni unite simbolo giusto un po' strano sinceramente vabbè te lo dici tu simbolo giusto città Boston che cazzo no allora non ci siamo eh Boston cazzo è Boston ciao fuori documenti falsi prigione documenti per scopo del viaggio vengo a vivere con mio marito immigrazione per sempre scaduto vabbè tese non posso arrestare le persone perché hanno il documento scaduto peccato dai avanti il prossimo Dani Ludum questo me lo devo ricordare chi è questo qua salve vecchio amico io sono tornato non è tutto giusto che palle questo qua allora norma base solo richiedenti con passaporto solo documenti solo stranieri ok tac io sto divertendo ma informati un po' sulla legge cerco cose di indata e ritorno fa morire quel tizio di passaggio di soggiorno vengo solo 14 giorni allora sul documento uguale questo non è scaduto questo non è scaduto tanzen zentan 42 sembra tutto giusto allora lui è di import andiamo a vedere un attimo import andiamo su import e in kiki kiu sono più bravo dai questo apposto sto via oggi non ho preso manco una munizione adesso la prendo ma non ho visto che era maschio lo sapevo perché non me ne sono accorto e palle uno stupido certe volte ma vaffanculo lui tumdari tu vieni tu bella ragazza ma questo deve entrare cioè non posso perci niente no no non ha una carta identità in realtà no allora ti voglio dire che tu per entrare guarda devi avere carta di identità ehi carta di identità non me l'hai data non me l'hai data la carta di identità questo è il visto d'entrata io ho bisogno della carta di identità solo documenti corti ehi vaffanculo ti rifiuto e basta che sia un pezzo di merda comunque ciao ah ma ce lo va qua la carta di identità vai che esperienza vai rifiutato adesso mi arriva l'ammonimento il candidato è l'entrata ultimo ammonimento cazzo questi tre oggi immigra questa qua immigrazione per sempre 82 11 24 quasi scaduto vabbè mari telluria femmina immigrazione per sempre obrist scalla la città vediamo scalla scalla no mappa della regione obrist stan scal beh sei a posto tembriamo non grava problema il prossimo questa forse è l'ultimo ancora oh scopo del viaggio uspicile tutti questi fogli capisci un carino qualche settimana beh l'accetto e basta mi sono fatto il cane non era manco un maschio manco la foto ho visto il documento il documento ti prego il viaggio industria poche settimane un mese etan botovoski etan bot ho fatto spaventare cari cari mi casa era quella vabbè giornata terminata in anticipo per attacco terroristico va bene c'è sta roba mia c'ho meno cinque mamma ma 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 stosca non tolleri le dibittori insolventi la tua famiglia verrà rimandata al paese d'origine rimanerà in arresto finché i debiti non saranno ripagati sarà facile trovare un nuovo ispettore ora era la scarsa c'ho perso che bella devo fare altre ripartite ragazzi se questo fu il gioco mi è piaciuto fatemelo sapere con un momento ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao